L'amministrazione comunale presenta il calendario 2012 di Ostuni, 13 scatti selezionati da un'apposita commissione tra le oltre 400 foto anonime pervenute alla segreteria del concorso. L'iniziativa, visto come partner Alba Comunicazioni, è stata approvata dall'amministrazione comunale come veicolo di promozione turistica considerando la partecipazione alle selezioni di tantissimi turisti residenti in altre regioni d'Italia e all'estero che hanno potuto ammirare le bellezze della città bianca. Dunque il concorso parte da un'idea della nostra agenzia di coinvolgere lo scorso anno i cittadini del comune di Ostuni. Quest'anno invece con internet e con facebook l'invito è stato esteso a tutti e l'hanno letto i turisti che quest'estate hanno passato qualche giorno, qualche settimana o addirittura mese nella nostra città bianca. Infatti 5 dei 13 partecipanti, dei 13 vincitori sono di fuori, addirittura c'è il vincitore della copertina che è di Tenerife, il quale viene in vacanza spesso qui perché ha parenti e la sua foto in maniera anonima è stata scelta come copertina del calendario. Quest'anno la partecipazione è stata massiccia, infatti gli scatti pervenuti sono stati circa 700. C'è stata una prima selezione tecnica nostra dell'agenzia sulla qualità delle fotografie e non sull'effetto artistico, sulla qualità della fotografia perché dovevano essere pubblicate. Poi c'è stata un'altra selezione fatta qui al comune con partecipanti politici, tecnici, fotografi e personale del comune e alla fine con maggioranza di votazioni sulle fotografie il calendario è stato composto.